Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Durante la registrazione della quarta puntata di Amici c'è stato un incidente che ha costretto uno dei protagonisti del programma a fermarsi Ecco cosa è accaduto.Incidente Amici.Nella giornata di giovedì 7 aprile si è svolta la registrazione della quarta puntata del serale di Amici che ha visto l'eliminazione di due dei concorrenti più amati da parte del pubblico Amici, l'incidente durante la registrazione.La giuria, dopo essere stata nella scorsa puntata un po' diversa dato che Sabrina Feriglio aveva preso il posto di Stash Fior di Spino risultato positivo al Covid-19, è tornata a essere quella di sempre con i cantanti dei The Colors più sorridente che mai dato anche l'annuncio del suo secondo figlio in arrivo Alla fine del programma, come ospite in studio c'è stato San Giovanni che l'anno scorso ha vinto la categoria Canto classificandosi poi al secondo posto della classifica totale dietro la vincitrice dell'edizione precedente, stiamo parlando della sua compagna la ballerina Giulia Stabile Durante la puntata che andrà in onda sabato in prima serata su Canale 5, assisteremo a tre volte di fila alla vittoria della squadra formata dal team dei professori Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano, con quest'ultima che criticherà fortemente il ballerino di Veronica Peparini, Dario Schirone accusandolo di non essere un ballerino versatile Amici, incidente durante la registrazione.Inoltre assisteremo alla famosa esibizione sul palo effettuata da Karola Puddu e da Michele Esposito che non si è potuta svolgere qualche puntata fa in quanto non giudicata equa e assisteremo ad un inedito Luigi che canterà una canzone a rap aggiudicandosi il punto per la squadra Ad avere la peggio saranno Aisha Mariam Sambi e Criticol, Francesco Paone, che verranno eliminati dopo uno scontro con Sissi, Silvia Cesana, e Alex, Alessandro Rina, per quanto riguarda la prima e con un zio stancampiano per quanto riguarda il secondo Il panico in studio.Ma durante la registrazione è accaduto un incidente in studio, durante il guanto di sfida dei professori, mentre Rudy Zerbi e la maestra Celentano si sono esibiti in Dirty Dancing, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro si sono esibiti sulle noti del musical dei Blues Brothers Proprio durante questa esibizione, Lorella si è fatta male scatenando il panico in studio Sembrerebbe che per la prof di canto non ci sia stato alcun danno serio ma in molti le hanno chiesto di fermarsi e farsi controllare Amici, incidente durante la registrazione.La Cuccarini ha poi proseguito la registrazione senza alcun problema dimostrandosi ancora una volta una donna tenace e nata per stare sui palchi dei teatri e della televisione dove da molti anni dimostra di avere un talento per il canto e per la danza Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video